Il gol in questa prima frazione di gioco... Trentesimo dei primi tempi. Quanti gol c'è stato di fare? Tre. Ha aperto la Sampdoria e la marcatura in questa giornata. Andiamo per il momento dove c'è Idris. Idris, a te la linea. Grazie, fratelli e fratelle. Io sono a Parma per seguire la mia squadra, la Juventus, che gioca contro il Parma. Abbastanza difficile per lei. Sì, vuole essere in torno. Basta! A più tardi, Idris. Ma voi non dite niente. Che siete adepti? Da che idee?